andiamo ad esaminare il primo step cioè quello c'è quello dei dati personali che chiaramente è riferito ai dati anagrafici e di recapito che riguarda ognuno è bene sempre controllarli perché non ci siano errori però poi si passa allo step degli insegnamenti basta cliccare su questo numero 2 vedete quelli azzurrati il 2 il 5 il 7 e l'otto sono quelli compilabili per la il candidato l'aspirante mentre quelli in grigio non sono editabili cioè non si possono compilare nella fattispecie questa domanda non è riferita a persone che si trovano in prima fascia gps sostegno che potrebbero dichiarare il possesso del requisito per accedere al ruolo cioè avere la specializzazione sostegno di essere inserito almeno in elenco aggiuntivo delle gps prima fascia sostegno o in prima fascia sostegno e poi lo step 4 per le preferenze ai fini del ruolo cioè del contratto a tempo determinato ma ai fini del ruolo poi ci sarebbe lo step 6 che riferito al titolo di riserva per chi possedeva nelle gps già la riserva nella fattispecie questa domanda può essere compilata solo per gli step 2 cioè gli insegnamenti che andremo a vedere 5 cioè la scelta delle preferenze 7 se c'è una priorità di legge 104 92 e poi l'ultimo step è quello di un riepilogo e dell'inoltro andiamo a vedere lo step numero 2 ci clicchiamo sopra vedete il sistema gira e quindi fa scendere la macchina a questa pagina dove sono riferiti gli insegnamenti cioè in questa pagina e sono riportate le classi di concorso le gradatorie per insegnamento per cui si può fare la domanda vedete il pallino verde e proprio determina che è inserito regolarmente su questa classe di concorso la 037 la 040 e così via una volta controllate queste e verificato che ci sia anche il sostegno per il riferito alle medie per la 060 che una classe di concorso riferita per le scuole secondarie di primo grado dunque l'associata gradatoria incrociata sostegno deve esistere e deve esistere anche la gradatoria associata in questo caso per le classi di concorso come la 37 per ma anche la 40 la 41 insomma per il sostegno scuole superiori a questo punto il candidato l'aspirante alla domanda può cliccare per andare nello step successivo a questo punto l'aspirante